Nuovo appuntamento con Spazio e Notizia, ben ritrovati. Apriamo parlando dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS a Catania, controlli che hanno portato al sequestro di oltre sei quintali di prodotti da forno. In un panificio sono state trovate anche blatte ed escrementi di topi. Vediamo il servizio. Oltre sei quintali di prodotti da forno sequestrati e dieci titolari di laboratori artigianali di produzione di dolci e pane segnalati alle competenti autorità e il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri del NAS di Catania durante le festività di Natale e di Capodanno per contrastare attività illecite e le contraffazioni nel settore dei prodotti tipici da forno. Tra le operazioni di maggiore rilievo si segnala il sequestro di un panificio che operava in condizioni igienico-sanitarie molto precarie. Sono stati trovati ingenti quantitativi di prodotti e materie prime in cattivo stato di conservazione e ricoperte da muffe tenute in ambienti in cui è stata rilevata anche la presenza di blatte ed escrementi di roditori. In un altro caso invece sono stati sequestrati prodotti gastronomici in fase di lavorazione rinvenuti all'interno di un laboratorio di panificazione dove il pavimento era stato cosparso di polvere insetticida con grave rischio di contaminazione degli alimenti destinati alla preparazione di specialità gastronomiche da forno. Molto rilevanti sono state anche le quantità di pane sequestrate in alcuni panifici i cui titolari trasformavano il prodotto in venduto in pangrattato senza il rispetto delle più elementari norme igieniche e omettendo altresì l'applicazione della prevista etichettatura atta a garantire la tracciabilità della filiera alimentare. Sempre a Catania due persone sono state denunciate dalla polizia, erano in sella a una moto in possesso di una pistola scacciacani e due coltelli. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Nesima durante un servizio antirapina in viale Mario Rapisardi hanno sottoposto a controllo una moto che stava procedendo con fare sospetto con in sella due persone. Una volta fermati i due soggetti, i poliziotti hanno proceduto alla loro identificazione e a una perquisizione personale che ha dato esito positivo. Addosso a uno dei due, infatti, è stata rinvenuta una pistola scacciacani di colore nero unitamente alla somma di 310 euro in banconote di diverso taglio, oltre a due coltelli a serramanico lunghi circa 17 centimetri. L'altro soggetto, invece, è risultato in possesso di 745 euro in biglietti di vario taglio. A quel punto la perquisizione è stata estesa anche al motociclo dove, occultati nel sottosella, sono stati trovati un passamontagna nero, un caricatore privo di cartucce e una scatola contenente 50 cartucce a salve. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed entrambi, dopo essere stati fotosegnalati presso il gabinetto regionale della Polizia Scientifica al fine di una compiuta identificazione, sono stati indagati in stato di libertà per il reato di portodarmi o d'oggetti atti a offendere. Sono state effettuate anche delle perquisizioni domiciliari presso le rispettive residenze degli indagati, ma con esito negativo. Da Catania a Castellana Sicula, nel Palermitano, dove un 65enne è stato invece arrestato dai carabinieri per aver commesso un furto all'interno di un'abitazione. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Castellana Sicula hanno arrestato un 65enne della zona già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di furto in abitazione. L'uomo si è introdotto all'interno di un edificio in una zona rurale di Castellana. Gli occupanti, insospettiti dai rumori, hanno subito chiamato il 112 segnalando che dentro la loro abitazione si era introdotto uno sconosciuto. Il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri, che era impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha consentito di rintracciare il 65enne, il quale si stava allontanando per le campagne con la refurtiva. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Merese. Il maltolto è stato restituito al proprietario. Doppio intervento della squadra mobile di Ragusa, eseguite due misure cautelari nei confronti di altrettanti pericolosi stalker. Nei giorni scorsi la squadra mobile della questura di Ragusa ha tratto in arresto due persone ritenute responsabili di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale su minori e lesioni. Uno straniero regolare sul territorio nazionale, da anni residente in Italia, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per una sequela di condotte criminali ai danni di familiari, è risultato assente in quattro diversi controlli effettuati dai poliziotti delle volanti presso la sua abitazione. Comunicati i fatti, l'autorità giudiziaria competente, valutato l'aggravamento delle esigenze cautelari, ha sostituito la misura in corso con quella più afflittiva della custodia in carcere. Nella medesima giornata, all'esito di un'attività investigativa svolta dalla squadra mobile della questura di Ragusa, è stato arrestato un altro pericoloso stalker ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni personali nei confronti della coniuge e del figlio minore. L'uomo ha violato ripetutamente la specifica prescrizione del divieto di avvicinarsi alle parti offese e alla loro abitazione, dando inizio, peraltro, a una serie di molestie anche nei confronti di altri soggetti. Anche in questo caso, all'autore delle condotte persecutorie è stata aggravata la misura coercitiva del divieto di avvicinamento con l'applicazione di strumenti di controllo elettronici, il cosiddetto braccialetto elettronico, che consente alle vittime di conoscere in tempo reale, l'eventuale vicinanza dello stalker nella sfera dietata, nella circostanza stabilita dall'autorità giudiziaria in 500 metri. A Vittoria, un giovane è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere. Era evaso dai domiciliari, rendendosi irreperibile per mesi. Vediamo il servizio. Continua senza sosta l'attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, anche al fine di garantire la corretta esecuzione dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria. In particolare, i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno dato esecuzione a un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica, presso la Corte d'Appello di Catania, nei confronti di un vittoriese. Il giovane, evaso dagli arresti domiciliari ad aprile dello scorso anno, è stato individuato dai carabinieri nei pressi del suo domicilio a Vittoria. I militari dell'arma, dopo averlo identificato compiutamente, lo hanno condotto presso i loro uffici. I carabinieri, dopo aver proceduto nei confronti del giovane a deferirlo in stato di arresto all'autorità giudiziaria per il reato di evasione, gli hanno congiuntamente notificato il provvedimento dell'ordine per la carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria catanese, poiché è condannato a espiare la pena della reclusione per fatti commessi a Vittoria nel mese di marzo 2022, traducendolo presso la casa circondariale di Ragusa, terminate le formalità di rito. Tempo di bilanci per la Polizia Ferroviaria che fa il resoconto delle attività svolte in Sicilia nel 2023. 27 persone sono state arrestate, oltre 200 invece denunciate. Ma facciamo il punto del nostro servizio. La Polizia Ferroviaria della Sicilia nel corso del 2023 ha intensificato i servizi di controllo del territorio di competenza al fine di prevenire e contrastare eventi delittuosi e illeciti in ambito ferroviario. L'attività posta in essere ha consentito di controllare 179.559 persone, di cui 28.452 a bordo dei treni regionali e 7.074 a bordo dei convogli a lunga percorrenza. Per garantire servizi sono state dislocate 17.166 pattuglie in divisa e abiti civili, che hanno presidiato gli scali e le linee ferroviarie della Sicilia, nonché 4.152 treni. I veicoli controllati sono stati 1.973, 651 invece le contravvenzioni elevate. I controlli capillari sul territorio di competenza hanno permesso di arrestare 27 persone, denunciarne 205 e procedere al sequestro di sei armi bianche, 4.200 euro di banconote contraffatte e sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre recuperati circa 120 kg di rame rubati da infrastrutture ferroviarie, mentre circa 8 tonnellate di metalli misti e rifiuti speciali pericolosi sono state sequestrate a imprese operanti illecitamente nel settore della gestione e trattamento dei rifiuti. Nel corso del 2023, inoltre, sono state pianificate 41 giornate di controlli straordinari organizzate a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria. Cambiamo argomento, parliamo di agricoltura. La regione siciliana ha pubblicato quattro bandi per un totale di 35 milioni di euro per favorire la competitività delle imprese siciliane. Quattro bandi per un totale di 35 milioni di euro per sostenere la competitività delle imprese agricole siciliane sono provvedimenti, ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino, che puntano a sostenere le attività di promozione dei prodotti, la condivisione di conoscenze e innovazioni in agricoltura, fornire supporto all'apicoltura e migliorare le pratiche di allevamento. Vogliamo rendere le nostre imprese sempre più competitive e al passo con i tempi. Lavoriamo spediti e in tempi celeri per dotare i nostri agricoltori di strumenti idonei ad affrontare le sfide di un settore strategico, ha concluso l'assessore San Martino. 5 milioni di euro sono destinati alla promozione dei prodotti di qualità verso consumatori e operatori del mercato europeo. L'obiettivo è informare sulle caratteristiche nutrizionali delle produzioni agroalimentari, evidenziando i vantaggi ambientali legati all'utilizzo di tecniche di produzione sostenibili. Inoltre il bando punta a favorire l'integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole. Un altro bando è rivolto alla diffusione e condivisione di conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione in agricoltura e nelle aree rurali. La dotazione finanziaria di un milione e mezzo servirà a sostenere servizi di back office per fornire informazioni e supporti specialistici sull'uso delle risorse naturali, di eventi atmosferici e cambiamenti climatici, di problemi connessi ai settori zootecnico, forestale e alle produzioni vegetali e sulle condizioni dei mercati e la gestione di impresa. Sono 7 milioni e mezzo invece le risorse destinate all'apicoltura. In particolare il provvedimento vuole contrastare il declino degli impollinatori sostenendo le pratiche di apicoltura che tutelano la biodiversità. Infine via libera anche al quarto bando che con 21 milioni di euro incentiva pratiche di allevamento più sostenibili che assicurino minore stress e sofferenza fisica agli animali, un'alimentazione adeguata, minori emissioni e una migliore gestione di reflui e deiezioni. A Catania si parla di mobilità sostenibile, una proposta per una città con meno traffico e di conseguenza meno smog. Ci racconta tutto Lucio Di Mauro. Per avere una Catania con meno traffico e soprattutto con meno smog, il vice segretario provinciale confederale Confsal Bartolo Curia propone all'amministrazione comunale un progetto innovativo ma nello stesso tempo semplice nella realizzazione, in quanto si chiede di valorizzare e fare in modo di far funzionare a pieno regime le quattro macro aree già esistenti nel nostro territorio e farle funzionare come veri e propri scambiatori in merito alla mobilità sostenibile provenienti dalle principali direttrici territoriali di ingresso alla città. Ci sono quattro macro aree che la città ha dentro di sé, per cui queste quattro macro aree, nord, nord-ovest, nord-est e sud, da lì tutti i bus che vengono fuori città possono transitare in queste quattro macro aree e creare un capolinea in modo tale che tutti questi bus non entrino nella zona urbana e fare in modo che l'AMT in questa fase possa operare a fare da busso navetta e da busso dove portare i passeggeri in destinazione che il passeggero stesso ne desidera. Ci sarà molto meno smog per la città, ma non solo, la città a questo punto si libererà di tutti questi mezzi che effettivamente entrano e comunque fanno più danno che altro alla stessa città. Adagi San Filippo, nella Catanese, ultime iniziative per chiudere in bellezza le festività natalizie. Adagi San Filippo, anche quest'anno, torna la tradizionale cona che con l'appuntamento sulle note del Natale, atteso spettacolo natalizio giunto alla seconda edizione e con il concerto bandistico porterà al termine il ricco calendario natalizio allestito dal parroco Don Roberto Strano in collaborazione con i membri del Comitato dei Festeggiamenti in onore del Patrono San Filippo da Gira. Dal 5 al 7 gennaio la Basilica sarà la culla di Gesù Bambino alla quale i fedeli e i turisti potranno accostarsi con fede e stupore apprezzando la bellezza. La cona, progettata da Sebastiano Florio, è sempre suggestiva e riveste ancora molto interesse, tanto che nell'altare del Santo Patrono si allestisce questo particolare altarino con la Santa Famiglia adornata con agrumi, frutta, fiori, foglie e dolci, tutti elementi associati all'inverno. Questa sarà l'occasione per svolgere i canti tradizionali, le nenie e le poesie che saranno i protagonisti dello spettacolo sulle note del Natale, organizzato da Antonino D'Amico e del concerto del corpo bandistico guidato dal maestro Michele Pio Barbagallo. Come membro del Comitato San Filippo da Gira ho il piacere di invitarvi a quella che è la manifestazione conclusiva di questo Natale vissuto in parrocchia. Vi invito a visitare la cona che noi membri del Comitato realizzeremo e che sarà visitabile nei giorni 5, 6 e 7 gennaio all'interno della Basilica di San Filippo. La cona che è un'antica tradizione siciliana tipica, veniva allestita, viene ancora allestita in molte chiese, in molte case, in occasione della festa del Santo Natale. Quindi il mio invito è quello di venire a visitare quest'opera che noi stiamo riproponendo per mantenere sempre vive le tradizioni della nostra bella terra di Sicilia. È tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.